Il Castello dell'Arancia, dopo quasi 200 anni dalla battaglia di Tolentino, si sta preparando per un'altra invasione. Questa volta però i soldati non avranno in mano le baionette, ma i propri smartphone, le fotocamere e tablet, per fotografare, condividere, twittare e commentare gli angoli più belli e suggestivi di uno dei luoghi medioevali più ben conservati delle marche. Costruito intorno al 1350 dalla famiglia d'Avarano, il Castello dell'Arancia è una delle più importanti strutture di questo genere nelle marche. Per secoli è stato punto di ritrovo per i perlegrini che viaggiavano lungo la via lauretana, ospitò grandi personalità come Braccio da Montone, Francesco Sforza e Gioacchino Miurà e fu teatro di grandi battaglie come la storica battaglia di Tolentino del 1815. Il Castello dell'Arancia entra dunque per la prima volta nella rete internazionale promossa da Invasioni Digitali, che fino al 4 maggio coinvolgerà centinaia di realtà museali e storiche italiane ed europee. L'appuntamento di Tolentino è per sabato 26 aprile alle ore 16.30, quando il Castello aprirà le sue porte gratuitamente agli invasori digitali. Si partirà poi per una visita guidata nel Mastio, nelle sale del Museo archeologico e lungo i suggestivi merli di Bellini dell'imponente fortezza, in un incredibile viaggio tra i misteri del passato e le meraviglie del presente. Per l'occasione il Castello dell'Arancia sarà aperto eccezionalmente fino alle ore 19 e la visita si concluderà con la realizzazione di un originale video, che coinvolgerà tutti gli invasori digitali e che documenterà l'invasione compiuta.